e il comportamento di della gestione sanitaria che viene fatto su questo territorio ovviamente non è non è l'unico in sicilia tipo ce ne saranno sicuramente ce ne sono sicuramente tanti casi noi conosciamo bene bene questo e il fatto della terapia intensiva è proprio il modo di gestire questo la sanità in questo territorio cioè in questo territorio ci sono i subumani e i subumani non hanno necessità di avere per forza i servizi sanitari che sono che sono consoli no non non è non è necessario che cosa dobbiamo che cosa dobbiamo salvare quelle carne da magello e la carne da magello non c'è bisogno che noi la curiamo effettivamente tanto se arrivano in buone condizioni a caltanissetto a palermo a catania secondo insomma delle delle di quello che succede e di dove il centro migliore dico se ci arrivano va bene se non ci arrivano non ce ne frega non ce ne frega niente ecco perché noi scriviamo alle istituzioni nazionali e alle istituzioni regionali certo anche perché appunto il diritto alla salute è un diritto che oltre a essere riconosciuto all'euro nazionale riconosciuto anche a livello internazionale e infatti nella vostra missiva voi citate anche gli organi europei proprio per per far sì che questa vostra richiesta non non resti inosservata a tutti i livelli